Al cittadino di Battista chiediamo subito un commento su questa sentenza, dal PDL ci hanno detto che è una sentenza politica, stanno cercando di eliminare per via giudiziaria Silvio Berlusconi. Ma di quale sentenza? Perché quando si parla di Berlusconi bisogna parlare di sentenze. E poi che hanno detto che il PDL è una sentenza politica? Mamma mia, l'originalità fatta a persona. Deve andare in galera, cioè nonostante noi siamo garantisti, Berlusconi è indegno, è indegno che sia senatore, è indegno che possa legiferare. In Italia chi è condannato non può essere un bidello ma può fare il senatore, questo è inaccettabile. Per cui Berlusconi deve andare in galera, fino a che non andrà in galera questo paese non sarà libero. Ecco, dopo questa sentenza pensate che dal PD possa arrivare in giunta per le elezioni un voto diverso da quello che ci si aspetta? Non lo so, capire il PD ci vuole uno psicanalista. Certo per loro non avere più il leader, non avere più Berlusconi è complicato perché saranno senza guida. Però ci auguriamo che nonostante questo il PD possa trovare il coraggio per votare finalmente l'inelegibilità. Ma più che altro lo vuole l'elettorato del PD, per cui non hanno più scuse. Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, in appello. Condannato per sette anni, caso Rubbi è interdetto a vita ai pubblici ufficiali. Ma che cosa altro deve fare? Deve uccidere una vecchietta per strada? Non lo so. Andasse in galera e il PD si comportasse per la prima volta in maniera degna. È complicato che il PD agisca in maniera coerente, è un po' uno simoro. Grazie a tutti.